Buongiorno, benvenuti a questa Zuppa di Poro di oggi di 13 luglio, ci sono due notizie fondamentali per importanza sui giornali, la prima riguarda gli immigrati, la seconda riguarda i vitalizi. Ovviamente sono notizie che hanno pesi diversi e commenti diversi, ma quella che forse oggi eccita di più gli animi di tutti i commentatori con posizioni diverse è la cancellazione dal primo gennaio del 2019 dei cosiddetti vitalizi, anche se su questo ha ragione Zurlo sulla giornale, i vitalizi sono stati già cancellati da un governo Berlusconi, da un Parlamento a guida Forza Italia centrodestra nel senso che i nuovi parlamentari non hanno i vitalizi, cioè non hanno una pensione basata su criteri assurdi e non quelli giusti della contribuzione e quindi pensione, più assurdi dei criteri che derivano da un lontano passato. Cosa è successo? Fuori da quella riforma chi c'è stato? C'è stato quelli che già erano andati in pensione, godevano di una pensione e si tratta di 1338 ex deputati per un valore del taglio che secondo le stime che bisogna poi verificare nel dettaglio è intorno ai 40 milioni di Euro all'anno, 40 milioni che poi vanno decrescendo ovviamente per il semplice motivo che molti di loro, mi sembra che ce ne siano oggi, calcolo a giovanarti sul qualche giornale, una quarantina di ultra ottantenni, novantenni, centenari che quindi purtroppo sono destinati, o per fortuna secondo qualche gufone che c'è in giro sono destinati a scomparire, ma è la natura. Allora, questa è la situazione, quindi sono stati aboliti i vitalizi rispetto a una norma che già li aveva aboliti. Tutti hanno votato nel comitato di presidenza della Camera contro, tranne Forza Italia e l'EU che non hanno partecipato alla votazione. I commenti ovviamente si dividono in due parti, Fico in un'intervista a Corriere della Sera, gode come un riccio, finalmente ce l'abbiamo fatta, Cerasa sul giornale scrive che la lotta alle elite è la nuova lotta peraltro fatta dalle stesse elite, cioè le elite che devono accreditarsi lottando contro le vecchie elite. Feltri, poi ne parleremo dopo, fa un pezzo durissimo contro Di Maio su un'altra sfaccettatura. Però Nordio, secondo me, sul Messaggero oggi fa un pezzo straordinario, come sempre sapete che io sono un fan dell'ex magistrato Veneto. Nordio che cosa dice, citando Platone e Aristotele, addirittura citando, scusatemi, Platone e Socrate, citando i grandi maestri del pensiero filosofico greco, dice ricordatevi che nella nostra cultura ormai è acclarato che non si risponde ad un'ingiustizia con un'ingiustizia, va bene? Non si risponde ad un'ingiustizia con un'ingiustizia, erano ingiusti alcuni privilegi irrazionali dei parlamentari e oggi rispondiamo con un'ingiustizia a questo diritto peraltro acquisito, come la Corte Costituzionale ha spesso detto. La cosa però che a me ha fatto cambiare idea è sulla quale 40 milioni per, diciamola tutta per anno, 40 milioni all'anno, diciamola tutta cosa, 40 milioni per anno, soltanto la carta costa 40 milioni, la camera costa un miliardo, il valore della camera è un miliardo il costo all'anno della camera, sono 40 milioni, pensate un po' voi, 40 milioni su un miliardo, io la dico tutta, non è che mi invento le cazzate, va bene? Diciamola tutta, vabbè, perché c'è un complotto qua, che non la diciamo tutta, perché io godo di un coso. Bene, andiamo avanti, qual è la cosa che oggi mi ha fatto veramente capire da che parte stare? Ed è una parte minoritaria, il 90% di voi ovviamente non può che stare con, come posso dire, con la seconda pagina del fatto, cioè tutti voi oggi starete con il fatto, perché vedi questi faccioni di cui il 90% mi stanno sonoramente sulle balle, che passano da 5 mila euro a mille euro di pensione, tra l'altro bisogna calcolare come hanno fatto queste robe qui. Comunque, mi stanno talmente, ecco, vedi, anche se fosse mille euro sono felice, cioè siamo contenti di aver tolto i soldi ai pensionati, bravi, siamo contenti, perché è colpa loro se noi stiamo male, però diciamo che oltre a questo elemento di invidia sociale, cioè colpa fra un po' anche di Ronaldo, come giustamente dicono gli operai, se loro lavorano male, se gli operai della Fiat a Melfi stanno male per colpa del fatto che hanno preso Ronaldo che avrà 30 milioni di stipendio, che vuol dire, mi sembra quanto è, quanto è 30 milioni di stipendio? Sono 3 milioni di euro al mese, 3 milioni di euro al mese vuol dire che sono 100 mila euro al giorno, 100 mila euro al giorno, no? E allora gli operai di Melfi stanno male perché viene pagato uno 100 mila euro al giorno, cioè un giorno di Ronaldo è, se va bene, due anni di lavoro di un operaio, due anni di lavoro di un operaio valgono, ecco, così noi, se noi togliessimo i soldi di Ronaldo staremmo tutti meglio, se noi togliamo i soldi ai parlamentari vitalizi stiamo tutti meglio, è la logica di tutti quanti, quindi io non la contesto, allora vi dico amici miei, vi dico, siccome noi la contestiamo e, tra l'altro, vedi quella faccia a cui gli riduci i vitalizi e veramente te lo dico, ti viene proprio, beh, per fortuna abbiamo tolto questi qua, però io vi voglio far vedere la faccia oggi della Raggi, voi andate su Twitter, scrivete Raggi, Raggi, e vedete che la Raggi fa, bye bye vitalizi, ve lo faccio rivedere, bye bye Vitalizi, ma porca puttana Raggi, ma tu neanche i 5 euro che ti diamo ti meriti, tu stai lì a fare il meme con scritto bye bye vitalizi, ma occupati di Roma, io preferisco dare un vitalizio in più a uno che sa per gestire una città che lasciare Roma a una come la Raggi che fa, bye bye vitalizi, cioè tu hai preso 5 minuti del tuo tempo per dire bye bye vitalizi quando io vorrei dire bye bye a una che non sa gestire nulla, è una città morta per colpa di una da due anni che non è riuscita a fare nulla, prima erano forse delle altre, certo, prima hanno sbagliato, certo, ma lei non doveva cambiare il mondo, allora se voi pensate, come oggi il foglio fa vedere benissimo, che noi siamo vittime della propaganda di Casalino che va e dite, fate tutti il vitalizio party a quelli del foglio e dice, ma voi siete morti, fra un po' vi chiudiamo, vi chiudiamo, certo, perché gli danno, ecco, questo clima di resa dei conti con la Raggi che fa bye bye, bye bye, guardatevelo, mi fa venire il sangue al cervello e quasi mi fa stare dalla parte di quelli che difendono questi inqualificabili parlamentari, inqualificabili non perché sono inqualificabili in sé, inqualificabili perché non hanno avuto un atto di sobrietà nel capire che in un paese che muore, da un punto di vista di spesa pubblica, forse avrebbero potuto fare qualcosa di più, detto questo l'hanno fatto perché oggi i vitalizi non ci sono più, comunque andiamo avanti, il secondo tema della giornale è che dai vitalizi si passerà a coloro che hanno una pensione superiore a 4 mila euro netti al mese e anche qui io dico, ma se quelli hanno pagato i contributi qual è il problema? cioè se uno ha pagato i contributi perché non deve avere una pensione superiore a 4 mila euro netti al mese? quando leggo oggi Vittorio Feltri sulla verità, scusate, sul Libero che letteralmente dice a Di Maio vai a fare in culo, l'ha scritto oggi, mi spiace la parolaccia poi ne dico anch'io ma oggi scrive vai a fare in culo, è perché se io ho pagato i miei contributi non me li dovete toccare non me li dovete toccare perché è un'ulteriore rapina io guadagno 1000 euro al mese, me ne hai tolti 500 di tasse, me ne hai tolti 300 di contributi beh insomma con quei contributi mi pago la pensione e non mi devi più rompere le balle perché ho pagato già le tasse per pagare i vigili urbani, per pagare la sanità, per pagare la salute per pagare le pensioni dei parlamentari, le ho già pagate le tasse, i contributi sono quello che io ho accumulato certo, diverso è, allora mettiamola, chissà perché non ne parla nessuno e quelli che ne parla oggi Nordio perché non parliamo di quelli che dopo 19 anni e 6 mesi sono andati in pensione e sono in pensione da quando hanno 45 anni per loro non vale questo ragionamento, comunque oggi sulla stampa ci sono tutti quanti i numeri sul taglio delle pensioni dei 4000 euro netti in più che riguarderebbe 100.000 persone e che porterebbe risparmi se fosse dal 10-20% di un miliardo comunque troppo poco per pagare i pensionati minimi che vi ricordo, i pensionati minimi, cioè vi dico quanti sono in Italia gli 825.000 persone che in Italia prendono 424 euro al mese cioè niente per 13 mensilità, quello è un sussidio alla povertà perché quelli nella maggior parte dei casi non hanno versato nulla nulla, se hanno versato nessuno li tocca, dice, se contributi ragione io voglio vedere se funzionerà così, cioè che se hanno versato non gli tocchi nulla sopra i 4000 euro mi auguro che sia così e se così fosse non recuperi un miliardo questo è il punto fondamentale perché l'obiezione che fa un nostro ascoltatore dice guardate che taglieranno le pensioni sopra i 4000 euro se sono immeritate dal punto di vista contributivo siete così sicuri? purtroppo per loro, secondo le ricerche fatte da Patriarca e da tanti altri coloro che hanno più di 4000 euro di pensione nella maggior parte dei casi se li sono versati tutti i loro contributi quindi, quindi, cari amici miei, si tratta di un'ulteriore tassa a posteriori per persone che non lavorano più e su questo Feltri oggi parla non parla più Travaglio oggi perché Travaglio dedica dal suo fondo del fatto quotidiano all'intervista a Davigo quindi Davigo appena eletto, il più eletto, un magistrato su tre ha votato Davigo, 2000 voti su 8000 magistrati hanno votato Davigo e ha vinto anche intervista oggi sul giornale l'area di centrodestra e conservatrice rappresentata da Galoppi ma la cosa che voglio dire Davigo cosa fa come prima sua dichiarazione dove si fa intervista da Travaglio sul fatto se voi questo non lo considerate un atteggiamento politico va benissimo va benissimo, è normale che il più magistrato di tutti dove parli sul giornale dei manettari che vogliono che sostanzialmente si stia tutti in galera tutti in galera preventiva senza le garanzie tipiche dei garantisti di un tempo va benissimo, ci sta e comunque ovviamente non può non parlare del governo adesso ve lo dico il governo ha pure idee giuste ha pure idee giuste, interessante come titolo Salvini non può fare il PM e beh, insomma, neanche lo vuole fare il PM Salvini il CSM ha violato le regole sulle nomine e allora, caro mio amico magistrato se ha violato delle regole sulle norme invece di dirlo a Travaglio vai nella procura che tu conosci bene e denunciali se tu sei così convinto che ha violato delle norme se ci sono delle norme violate c'è una procura che probabilmente ascolterà il più votato dei magistrati che peraltro ha anche votato seconda questione grande di giornata ve l'ho detto oggi è la questione come la sintetizza avvenire l'avvenire, sia chiaro, è il giornale che definiva il giornale nostro la macchina del fango semplicemente perché nel passato aveva preso posizioni nei confronti dei loro del direttore dell'avvenire svelandone l'ipocrisia apro la parentesi e la chiudo noi siamo la macchina del fango oggi quelli che sono i grandi paradini della giustizia mondiale ci scrivono Mattarella e Conto liberano 67 ostaggi no, scusami, ostaggi? ho sentito bene? ostaggi avvenire? cioè 67 persone che prendono una barca e vogliono venire in Italia, in Europa senza alcun permesso senza alcun via libera senza alcun... cioè sono degli immigrati che cercano di venire in maniera clandestina in Italia in qualsiasi paese del mondo non verrebbero non gli si stringerebbe le mani prego venite come facciamo in Italia e grazie a Dublino prego venite in Europa allora che questi siano considerati gli ostaggi perché Salvini ha detto scusate, fermi tutti hanno cercato di aggredire un equipaggio vediamo, magari no quello per cui vengono ostaggi forse la macchina del fango sono loro se definiscono ostaggi 67 immigrati poi può aver fatto bene può aver fatto male Salvini possiamo parlare ma loro non sono ostaggi non sono ostaggi erano forse ostaggi dei campi in Libia erano forse ostaggi dei pirati sul mare erano forse ostaggi di quelli che hanno fatto i soldi con loro per portarli in Europa e promottendogli una cosa che non c'era erano ostaggi loro non ostaggi dell'Italia e di Salvini come vuol far capire a venire comunque ostaggi di chi? giusta Silvia di chi? ma di chi? beh, insomma c'è stato un intervento di Mattarella oggi osannato da tutti quanti i grandi giornali sul fatto che ha sbloccato la situazione chiamando Conte e dicendogli di far sbarcare queste 67 persone che erano bloccate sulla nave perché Salvini non gli apriva il porto giusto? ho sbagliato che sia vi chiedo ma questo è l'obbligo? questo è il compito del Presidente della Repubblica? e se un Presidente del Consiglio e un Ministro degli Interni ha posizioni diverse e questo è il compito del Presidente della Repubblica va bene decidere i Ministri perché lo prevede la Costituzione ma prevede anche le politiche dell'immigrazione del Presidente della Repubblica ci può stare ci può stare ci può stare una moral situation del Presidente della Repubblica o Massimo Stia del Presidente della Repubblica voglio semplicemente vedere Zagrebessi che domani ci dica se questo fa parte delle prerogative del Presidente della Repubblica probabilmente sì salta la causale sui contratti stagionali e quanto previsto secondo la bollinatura è molto interessante il pezzo oggi di qualcuno che dice la bollinatura non è una burocrazia è normale che ci siano le coperture mi sembra che sia oggi il Corriere della Sera beh salta la causale nei contratti straordinari quel decreto dignità fa schifo è una cagata pazzesca ma almeno su questo obiettivamente si è fatto un piccolo infinitesimale passo avanti un passo avanti finalmente per noi è la decisione della FIFA della FIFA e siamo tutti felici perché la FIFA ha detto lo scrive bene oggi Michele Brambilla ma lo scrive anche il buongiorno di come si chiama di Gramellini beh la FIFA che cosa ha deciso che non si potranno più fare le riprese delle gnocche sugli spalti dei mondiali fantastico sono molto felice che la FIFA ha deciso questa cosa qua come dice bene Gramellini i prossimi mondiali saranno in Qatar in Qatar quindi non ci sarà un cazzo di problema perché come dice Gramellini riprenderemo le barbe non ci saranno le donne allo stadio ma andiamo magari in Arabia Saudita lì proprio il problema non c'è tanto sono loro che vincono i mondiali ma comunque come si fa a pensare che un cameraman che fa una ripresa nel pubblico non debba riprendere la gnocca cosa riprende? come fa a definire la gnocca? chi è una gnocca? quanto si deve essere prosperosi per essere gnocca? chi lo definirà? come si capirà che le regole sono violate? io lo vorrei chiedere a quel cretino imbecille della FIFA che ha deciso una cazzata di questo tipo io lo vorrei chiedere vorrei chiedere il criterio della gnocca riprendiamo le brutte riprendiamo qualche brutta quindi riprendiamo una che no non proprio brutta che non è gnocca ma non è brutta una mediocre ci sarà un decalogo delle mediocre mettiamo delle donne che siano mediocre e si possono riprendere le gnocche no le brutte no perché non esageriamo le mediocre e gli uomini? perché siamo così sessisti? perché non parliamo degli uomini? perché invece un bel uomo a torso nudo disegnato con i colori della propria squadra lo vogliamo riprendere? e i gay? quanta quota di ripresa devono avere i gay all'interno di una ripresa dei mondiali? non pensate cari amici della FIFA che c'è una certa discriminazione se non riprendiamo un numero sufficiente di gay e continuiamo a riprendere donne e uomini fichi e belle o meno belle e meno fiche però standard io riprenderei una quota di gay io consiglierei alla FIFA di mettere un numero di gay necessario scusatemi i neri? come la mettiamo quei neri? secondo voi è giusto che durante le partite dei mondiali si riprenda lo stadio soltanto bianchi caucasici donne bianche? non vogliamo prendere una quota di neri? beh, secondo me una quota di neri ci vuole ci vorrebbe tra l'altro anche una quota divisa per religione io vorrei almeno un Sikh ripreso uno col turbante non vuoi riprendere uno col turbante? uno col turbante non li riprendiamo cari merdosi della FIFA? come facciamo a discriminare avere solo bianchi caucasici cattolici? ma prendiamo uno col turbante ci vuole oppure qualche barba qualche barba la devi riprendere non vuoi riprendere qualche musulmano chiaramente musulmano durante le riprese perché discriminare soltanto le donne belle? prendiamo anche qualche musulmano ecco con questo io concludo perché quando penso al party sui vitalizi 1300 persone hanno tolto lo stipendio per cui è la grande vittoria mediatica ovviamente il Movimento 5 Stelle per cui tutti voi godete e poi guardo la FIFA che non vuole più le donne riprese sulla cosa io penso che c'è un enorme filo rosso per cui io ringrazio di avere questa zuppa e ringrazio voi quei pochi che ancora mi seguono visto il fatto che essere conservatori liberisti come me mi sembra sempre più difficile come diavolo facciamo ciao ciao